Lettera di Giacomo Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. «Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male e degli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna a se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Capitolo 2 Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite, tu, siedi qui al posto d'onore. E al povero dite, tu, statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Voi, invece, avete disprezzato il povero? Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi. Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro che andate in pace, scaldatevi e saziatevi. Ma non date loro le cose necessarie al corpo. A che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere è per se stessa morta. Anzi uno piuttosto dirà tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e le fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede, senza le opere, è morta. Capitolo 3 Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Poiché manchiamo tutti, in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua, è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata addomata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condutta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Capitolo 4 Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gerosia. Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed Egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio, e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica il fratello, parla male della legge, e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Capitolo 5 A voi ora o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divurerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi. Grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato. Avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.